I due figli maggiori della regina, il principe Carlo e il principe Andrea, hanno contribuito a cacciare il principale consigliere di sua maestà, ha affermato un esperto reale. Christopher Jate ha lavorato come segretario privato della regina dal 2007 al 2017, con le sue dimissioni e la successiva partenza che hanno sorpreso molti. Il biografo reale Matthew Dennison ha svelato il motivo per cui Lord Jate si è dimesso in fretta e ha rivelato che il principe Carlo e il principe Andrea erano dietro la mossa. L'autore ha detto che la regina era sotto pressione per costringere le dimissioni di Lord Jate da Carlo. Dopo il discorso dell'assistente che annunciava che il principe Filippo si sarebbe dimesso dal dovere reale. Il segretario privato ha annunciato la notizia a 500 membri dello staff reale che si erano riuniti nella sala da ballo di Buckingham Palace e ha invitato tutti a unirsi per sostenere il monarca. Tuttavia, il discorso, soprannominato un discorso di raduno dalla stampa, non è stato ben accolto dal principe di Galles. Dennison ha scritto. Lo staff di Charles si è risentito del suggerimento di Jate secondo cui la partenza di Philip ha creato opportunità per tutta la famiglia di Elizabeth. La loro preferenza era per un ruolo di re in attesa migliorato per Charles. Nonostante le smentite, Charles sembrava essere d'accordo. Il biografo reale ha anche notato che il principe Andrea era anche favorevole alle dimissioni di Lord Jate, a causa di un precedente risentimento con l'aiutante. Il signor Dennison ha notato che il secondo figlio della regina ha incolpato il segretario privato quando ha perso il suo ruolo di rappresentante speciale per il commercio e gli investimenti. Il duca di York aveva ricoperto il ruolo per dieci anni, dal 2001 al 2011. Commentando ciò, il biografo scrisse, Le dimissioni di Jate, avviate per conto di Elisabetta dal suo Lord Ciambellano, il Conte Pill, furono attribuite all'intervento di Carlo con sua madre, sostenuto da Andrea. Le radici dell'animosità di Andrew risiedevano nella parte di Jate nella perdita del suo ruolo di consigliere speciale. Il signor Dennison osserva che la partenza di Lord Jate nel 2017 è stata uno shock, con molti che hanno incolpato la casa di Clarence per il trasferimento. Ha scritto. Jate l'aveva servita bene. La regina. E potrebbe aver previsto di rimanere imposta fino alla sua morte.